Onorare due cittadini illustri del nostro Abruzzo come Silvio e Beltrando Spaventa, questo l'obiettivo dell'omonima fondazione di cui si è parlato questa mattina chieti alla presenza fra gli altri del Presidente della Regione Luciano D'Alfonso, della provincia Mario Pupillo e del Rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico, presente anche l'ex segretario nazionale della CISL, Raffaele Bonanni. Presidente Pupillo, un incontro fruttuoso, importante questa mattina con il Presidente della Regione, e con gli altri enti e le istituzioni per parlare di questa fondazione e dei suoi obiettivi. Sì, c'è purtroppo una dissonanza che è la legge del Rio, del riordino delle province che in termini legislativi e amministrativi ci toglierebbe la possibilità di partecipare perché le funzioni fondamentali della provincia sono viabilità, sono le scuole e la programmazione del territorio. Quindi ci hanno tolto tutte le altre funzioni tra le quali la cultura. Per noi è un'amputazione forte, il Presidente D'Alfonso ha preso l'impegno di poter avere una deroga proprio perché la provincia è parte essenziale di questa operazione e quindi noi vorremmo esserci sempre ovviamente se riusciamo ad ottenere questa deroga che auspichiamo possa essere fatta il più breve tempo possibile. Su questa fondazione Spaventa è importante secondo lei fare un gioco di squadra, regione, provincia, università e altri enti? Ma assolutamente sì, Beltranto Spaventa e Silvio Spaventa sono personalità che hanno disegnato la nostra nazione e purtroppo, come diceva il Presidente D'Alfonso, non sono conosciute adeguatamente, sono uomini che hanno veramente tracciato il futuro dell'Italia e quindi noi abruzzesi siamo bravissimi a non esaltare le qualità dei nostri conterranei e delle persone che hanno fatto grande l'Italia. Grazie.